Forza il posto di blocco dei carabinieri, investe un militare e tenta di fuggire. E' accaduto ieri pomeriggio a Castellabate, protagonista il 52enne del posto Emilio De Marino, già conosciuto alle forze dell'ordine per un episodio simile nel dicembre del 2012. L'uomo baricato sin casa è stato tratto in arresto per resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e omissioni di soccorso. Il militare che gli ha intimato l'alta ha riportato lesioni ad un braccio e ne avrà per dieci giorni. L'episodio si è verificato in via Beato Simeone. Durante un controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate hanno intimato l'alta al ciclomotore Piaggio Vespa, su cui il De Marino viaggiava senza casco e con la patente sospesa. L'uomo incurante ha accelerato e cercato di investire uno dei militari in servizio. Il carabiniere, nonostante la prontezza di riflessi, è stato colpito agli arti superiori. E' stato necessario il trasporto all'ospedale di Rocca d'Aspite. Intanto il 52enne cilentano ha tentato di far perdere le proprie tracce. Le ricerche hanno consentito di individuarlo presso la propria abitazione nella frazione Lago. Ha cercato di barricarsi in casa ed ha opposto nuovamente resistenza quando i militari agli ordini del maresciallo Marco Rizio e coordinati dal capitano Giulio Presutti della compagnia di Agropole hanno circondato l'abitazione per arrestarlo. Impresa riuscita solo dopo una dura colluttazione. Dopo le operazioni di fotosegnalamento, l'uomo è stato tradotto ai domiciliari in attesa della direttissima fissata per oggi al Tribunale di Vallo della Lucania. Grande spavento invece per il militare, che ha avuto dieci giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate ad un braccio. Non è la prima volta che De Marino si rende protagonista di episodi simili. Nel dicembre del 2012 forzò un posto di blocco dei carabinieri della stazione di Santa Maria, dando vita anche ad un inseguimento con i militari. In quel caso, cercando di eludere per la seconda volta il controllo, urtò con la propria vettura l'auto di servizio dell'arma. Probabilmente De Marino aveva cercato di evitare il controllo delle forze dell'ordine perché circolava senza la prevista copertura assicurativa.